ciao a tutti e con alcuno video anche oggi vi faccio vedere un'altra ricetta con un preparato per torte faremo insieme una torta allo yogurt e il preparato è sempre della cameo è una specie di cheesecake che potete personalizzare come volete a qualsiasi gusto basta mettere appunto all'interno uno yogurt di un gusto che volete voi è quindi molto versatile perché potete utilizzare qualsiasi tipo di yogurt con i pezzi senza pezzi di qualsiasi gusto sperimentare anche magari con i yogurt a caffè o comunque ai gusti particolari la preparazione è molto semplice e non necessita di cottura dovrete aggiungere soltanto 75 g di burro 250 ml di latte e 200 g di yogurt che sono circa due vasetti da 125 g all'interno della confezione trovate anche lo stampo dove appunto crederete la torta vado quindi a sciogliere in microonde il burro e amalgamo all'interno il preparato per il fuoco della torta che non è altro che dei biscotti sbriciolati una volta assorbito tanto il burro vado a metterlo nello stampo faccio un bel bordo uniforme e metto in frigo a riposare per circa 10 minuti prendo adesso il latte freddo da frigorifero all'interno vado a mettere il preparato per la crema e comincio a sbattere con delle fruste elettriche per 4 minuti finché il composto non è bello montato a questo punto aggiungo due vasetti di yogurt io ho scelto al gusto pesca albicocca e frullo per qualche altro minuto metto poi la crema sopra la base per torta e la faccio uniforme per la decorazione sopra come consigliano anche le istruzioni sulla scatola vado a prendere una forchetta e faccio tante ondoline lasciamo quindi riposare in frigo per almeno due ore e dopodiché la torta è pronta potete servirla anche mettendo sopra della frutta dello stesso gusto magari dello yogurt io non ce l'avevo delle pesche in casa e quindi non ho messo niente sinceramente a me non mi fa impazzire perché sa tanto 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 di yogurt appunto le yogurt che utilizzate e non mi piace a me molto lo yogurt senza nessun pezzo lo preferisco con i pezzi almeno quindi trovo questa torta un po troppo yogurtosa per i miei gusti se invece non vi piacciono i cheesecake questa potrebbe piacere perché appunto è molto diversa fatemi sapere questo nei commenti se l'avete mai provato se vi piace questa idea io la trovo veramente geniale perché con poco potete creare una torta personalizzata con i vostri gusti questo è tutto vi mando un grosso bacio alla prossima ciao